Ricordare può essere molto doloroso, l'altra parte sarebbe ricordare perché, e allora viene l'altra parola l'impegno, ricordare perché cosa. E allora lì, essendoci una ragione, essendoci un impegno molto forte, e l'impegno se lo dobbiamo riassumere in parola è che non avvengano mai più questi fatti, queste storie dolorose, queste tragedie di cui il novecento è stato particolarmente ricco, ma che ci sono anche oggigiorno, purtroppo. Allora, vale la pena farlo e se c'è da ricordare con un certo dolore, e vabbè, affrontiamolo. E quindi no, e poi dipende anche un po' dal carattere. C'è chi soffrendo un po' si paralizza, e c'è chi con una serenità che forse acquisita anche dalle esperienze che si vanno accumulando, e dalla fortezza di questo impegno, nel mio caso particolare ce la faccio, diciamo, e sono impegnata a farlo finché le gambe e il cervello me lo permetteranno. Poi ci saranno altri che lo porteranno avanti, ma anche su questo c'è un impegno, e l'impegno, c'è la memoria del vissuto, e c'è la memoria di quello che non si è vissuto, ma che si porta avanti lo stesso. Tutti noi abbiamo queste due memorie. Accompagnare una parola e impegnarsi a mandarlo avanti, ma anche con la convinzione di fare qualche cosa, e di cercare di evitare che queste storie si ripetano. E su questo c'è una ragione che non è solamente basata sui sentimenti, ma anche su un ragionamento. Perché se si riesce a dare alle nuove generazioni una conoscenza abbastanza approfondita di quello che è avvenuto, ma anche di quello che possiamo considerare dei precedenti, dei sintomi di ripetizione, se si possono riconoscere a tempo, e se c'è questo impegno a non lasciare che avanzino, che crescano, e che possano diventare, che so io, una discriminazione, un genocidio, tutto quello che è avvenuto. Anche una guerra, per dirlo, con tutte le cose che sono avvenute nel secolo scorso e anche adesso. Allora, se c'è questo impegno di non guardare dall'altra parte, di essere solidali, di non essere indifferenti, e civilmente e con i mezzi che dà la democrazia, evitare che questi fatti si abbiano a ripetersi.